Fabrizio Pirri, direttore del Centro per lo Sviluppo di Tecnologie Sostenibili dell'Istituto Italiano di Tecnologie presso Environment Park di Torino. CO2 ed economia circolare. Oggi l'immissione della CO2 nell'atmosfera nel mondo come conseguenza di impieghi industriali e produzione dell'energia sta causando una deriva climatica. La CO2 può essere valorizzata attraverso lo sviluppo di tecnologie che la trasformeranno nel combustibile del domani. Questo tipo di tecnologia è la nostra portata. CO2 unita all'economia a base di idrogeno può essere trasformata in un'opportunità per le aziende italiane che sono in grado di produrre componentistica di filiera. Cosa vuol dire? Intrappolare la CO2 prodotta dai grandi combustori, trasformarla in combustibile o in molecola ad alto valore aggiunto, ad esempio per i biopolimeri. Dopodiché rimetterla sul mercato e nuovamente rintrappolarla per ritrasformarla in molecola ad alto valore aggiunto. La tecnologia è quella della meccanica, della chimica, dello stampo polimerico, dello sviluppo di materiali che è abbondantemente all'interno delle competenze tecnologiche delle nostre aziende piccole e medie in sinergia con le grandi aziende che dovranno in qualche modo fare i player nel settore dell'energia.